Prendilo, 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 prendilo che lo portiamo a casa, dov'è? Ciappa, 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 via Marco, via Marco, è un maialotto, non è cingiare, ciao maialotto, vai piano, cingiare. Ciappa, 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 ciappa Ehi, di solito si, quest'anno siamo in anticipo. In anticipo? Sì, sono in anticipo. Se appena dai giù un po' di roba, neppi ne passano su, dai a San Borto, da moto. Non so se ti passavo su. Ehi, allora può dire Lorenzo, chissà, se oggi ci sono io. Andiamo a cantare per te, dammela, 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 dammela ancora la volta. Non mi è mai passata senza un po' colo, eh. No, è scappato, l'abbiamo fatto far ginnastica, l'ho filmato io, l'abbiamo fatto ginnastica fino a qua e poi è sceso. No, ma è andato tranquillo, tranquillo. E' una giornata di relax, diciamo. Con calma. Mi è saltato giù di qua e ho detto, ma sei matto a figliaro. Invece... Che è andato, calma. E' il segnacco a lui e passa giù. Minchia reno! Ok, ragazzi! Ho trovato, se ho trovato la tua scuola! Sì, sì. Doviamo andare qua. Io, mio Dio, non me lo faccio. Ma che non fa? Non so se dobbiamo andare in giù giù. No, non lo faccio! Calma, mi è brava! Quanti. Che, che! Che! Perfetto! No, non la sua. Sì, buon'argo e buon'argo. Un'argo... Grazie a tutti.